Musica La Epex Andrea Sono contro Baldini Sono contro il Magico Baldo Che debuff a 40 Ok Il primo tempo lo perdiamo un po' Maggi Cobaldo Mi dispiace Mi dispiace se nel primo tempo Faccio un po' Per un po' di tempo Debuff di 40 Che qui sia un po' un problema Che mi sono finissi Tira bene sui C'è un po' di tempo Maggi 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 Quanto sto giocando Quanto sto giocando Di Bond Se è lui che buffa 40 No ma Quale è il formato No 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 L'abbitudine L'abbitudine No Eh no Ma io faccio così Perché faccio così? Perché La stupida È umana E in questo caso Il baldo È umano Dai ah Deve passare solo un tempo Poi mi spido E stiamo a posto Zubasia Il capitano Val Direbbe il baldo Il capitano Ok Se lui There Gang Per me è un problema Se fa il 1-2 Non me ne può fregarmi no, però... Facciamo l'azione scontata, non se l'aspetta la scontata, vero? No, si aspetta la scontata! Dai! Ma dai... Ok... Ok... Ok, ho i contro Wakashi Maggi, il matchup del secolo Nooo... Power-up senza... Power-up, non trovo i vinci... Almeno che non te la... non succede mai... Ok... Questo dovrebbe essere un altro 10% di chance di segnare Ok... 74... Gentilmente la puoi rilanciare su ogni modo di fare questo problema? E non sempre sui suoi? No... Eh no... Quando chiedi troppo dalla vita, chiedi troppo, dai... Non fai niente... Vai, prendi sto pallone e chiudiamo sta storia, dà? Ed è finito anche in parte, non fai... a a a a a a a he's already dead Quanto tempo stavo a guardare la prima cosa facendo, ah no, non c'è niente. Questa è parola che c'è, sta scritto proprio... Ok... All'altra, vabbè, le possibilità di parare mie sono poche, all'inizio. Questo è giusto. Questo è giusto. Oh, questo è giusto. Ok... Pensavo io fosse finito il football. Però, sai com'è? Un applausone di Andrea, la partita non è finita. Non gli speriamo, non gli speriamo. Potrebbe esserci il punto gol, non gli speriamo. Potrebbe... Ha grittato... Vabbè, dai, non fa niente, ha grittato oro. Vabbè, dai. Vabbè... 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 Grazie a tutti.